Rissa, accensione e lancio di fumogeni, resistenza a pubblico ufficiale, invasione di campo. Sono solo alcuni dei comportamenti illeciti nell'ambito di manifestazioni sportive che portano all'emissione di un provvedimento DASPO, acronimo di divieto di accedere a manifestazioni sportive da parte della Questura. I piacentini colpiti da DASPO nel 2019 finora sono stati 22, 14 sono stati emessi dall'equestore di Piacenza Pietro Stuni, gli altri 8 riguardano piacentini coinvolti in episodi avvenuti in altre città. Tutti i casi riguardano il calcio. Lo scorso anno soltanto un piacentino fu interdetto dalle manifestazioni sportive. Tra le motivazioni dell'impennata del DASPO c'è anche la modifica delle normative che riguardano i fumogeni. Da quest'anno infatti è punita anche l'accensione, mentre in passato il provvedimento colpiva solo chi lo lanciava. Ci tengo a precisare che la volontà del questore, in questo caso appunto la volontà della Polizia di Stato, è quella di garantire sempre delle manifestazioni che si possano svolgere come delle feste, quindi manifestazioni sportive dove è il tifo che veramente la fa da padrone e non certo atti che possano andare a turbare la tranquillità anche delle tante famiglie che vogliono vedere le partite. Pertanto ogni atto che si renderà tale e si renderà meritevole di essere sanzionato da un punto di vista del DASPO verrà assolutamente applicato. Il DASPO impedisce al soggetto colpito di partecipare ad avvenimenti sportivi per un periodo compreso tra 1 e 5 anni. In caso di recidiva si arriva fino a 10, come è accaduto a un piacentino coinvolto nei recenti episodi di violenza avvenuti a Torino. Chi viola il DASPO può essere punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10 a 40 mila euro. È possibile anche l'arresto. Il soggetto colpito dal provvedimento, oltre all'impossibilità di assistere alla gara, non può inoltre recarsi in stazione quando arrivano i tifosi ospiti e in determinati autogrill nei quali è previsto il transito dei tifosi.